Eccoci qua, buonasera. Il telegiornale partirà dai dati dell'economia che sono stati diffusi in Italia come in tutta Europa e presentano un paesaggio, se così lo possiamo definire, post bellico. Ed è un po' questo dal punto di vista dei numeri, quando tutti i paesi vanno rispetto allo scorso anno indietro nel PIL di oltre il 10%, questo è l'effetto soltanto di una situazione provvisoria devastante. Il tendenziale è meno 17,7% rispetto a un anno fa, effetto evidentemente di due trimestri difficilissimi, soprattutto il secondo. Da parte del governo e del ministro dell'economia si esprime in realtà ottimismo perché ci sono i segni concreti di un forte rimbalzo, ma è evidente che abbiamo davanti a noi mesi difficili, mesi soprattutto in cui si misurerà non soltanto la ripresa del nostro sistema produttivo, ma anche la ripresa dei consumi senza i quali il paese resta comunque indietro. Da qui anche l'allarme che arriva dalle organizzazioni dei commercianti, che parlano addirittura, lo fa Confcommercio, di una cifra di 116 miliardi bruciata di consumi rispetto allo scorso anno. Ma come vedremo la situazione è difficile, ci sono paesi come la Francia che hanno un tendenziale del PIL peggiore del nostro, tanto per intenderci. Il problema è cosa fare adesso, quando ci sarà il momento delle scelte, ma di questo parleremo. Come si sa ci sono scelte più immediate perché esattamente tra due lunedì riaprono le scuole e praticamente è la sera delle decisioni su due partite che come si sa sono state contrastatissime, quella sulle mascherine in classe e quella sui trasporti locali. Si va verso un'intesa caldeggiata dalle regioni per cui i mezzi di trasporto locali possono essere riempiti fino all'80% della capienza, ben più di quel 50% di cui si è parlato fino ai giorni scorsi. Ma altri elementi restano in piedi e tra l'altro c'è una lettera aperta di fatto della Ministra Azzolina agli insegnanti e al personale della scuola per sollecitarne l'orgoglio e l'impegno. Vedremo che del resto i contagi, i nuovi casi di oggi e delle ultime 24 ore sono scesi sotto quota 1000, anche effetto della domenica in cui si fanno meno tamponi, ma ci sono degli elementi che vale la pena insottolineare, come ci siano dei trend per cui ad esempio la Campania e il Lazio hanno più casi della Lombardia, ben diverso da quello che ricordiamo essere stato il drammatico e tragico passato dell'evoluzione di questa pandemia. Vedremo che la politica vive dell'attesa di quel che accadrà tra tre lunedì, quando si chiuderanno le urne sulle regionali e sul referendum. E sul referendum sono in pieno atto le grandi manovre dei partiti, alcuni dei quali devono ancora decidere e comunicare ufficialmente il proprio orientamento. Si guarda soprattutto a PD e Forza Italia e stasera tornano anche per pochi giorni, perché poi si può divulgarli fino a venerdì prossimo, quando ci sarà il nostro ultimo, prima del voto i sondaggi. Andremo anche a vedere altre due cose, come su Portland gli incidenti negli Stati Uniti che si sia sviluppato l'ennesimo braccio di ferro tra Trump, che è in ripresa nei sondaggi, e il suo sfidante Biden, e l'accordo che è praticamente stato firmato poco fa tra Cassa Depositi e Prestiti e Tim per la famosa rete unica. Vedremo questo e altro tra poco, già dai titoli. Il PIL del secondo trimestre è, come previsto, molto giù. Siamo a 17,7% in meno rispetto a un anno fa. Numeri che certificano le pesanti conseguenze del lockdown, non solo per l'Italia ma per tutti i paesi dell'area euro. Il tendenziale francese è a meno 19, la Germania fa meglio di noi, ma peggio la Spagna. Ci sono però segnali di ripresa che vengono sottolineati da Gualtieri per il terzo trimestre. E però ci sono le organizzazioni del commercio che segnalano a loro volta il calo dei consumi. Solo in Italia alla fine dell'anno saranno andati persi, bruciati, 116 miliardi. Corsa contro il tempo per la riapertura delle scuole, prevista tra esattamente due lunedì. Oggi la conferenza Stato-Regioni in corso per trovare una linea comune sulla mobilità scolastica. Ci sarebbe l'accordo calteggiato dalle regioni sul limite dell'80% di capienza per autobus e treni locali. Ma ancora permangono le divergenze sull'uso delle mascherine in aula. La tira dritto la ministra dell'istituzione Azzolina che in una lettera del personale scolastico ha difeso punto per punto il suo operato dopo le critiche dell'opposizione molto dure, ma anche di pezzi della maggioranza. E per il terzo giorno consecutivo scendono i nuovi casi in Italia, 996 nelle ultime 24 ore, anche se, va detto, a fronte di una riduzione di tamponi effettuati. Lieve risalita dei ricoveri dei malati in terapia intensiva in due regioni, Campania e Lazio, si contano complessivamente più casi della Lombardia. Intanto l'obiettivo del governo è aumentare la ricerca dei positivi asintomatici con un maggior numero di tamponi giornalieri. Cominciate le grandi manovre dei partiti in vista del voto sul referendum per il taglio dei parlamentari. Sarà la direzione del PD nella prossima settimana a decidere la linea del partito. Zingaretti punta l'intesa di maggioranza con i 5 stelle sostenitori dei sì, ma tra i dem cresce il fronte di no. Anche il centrodestra è diviso dal suo interno. Intanto stasera torna il nostro appuntamento del lunedì sulle intenzioni di voto agli italiani. Il sondaggio, insomma. Negli Stati Uniti le proteste antirazziste a Portland fanno salire i toni della campagna presidenziale tra Donald Trump e Joe Biden. Il presidente rimonta nei sondaggi che domani sarà a Kenosha, in Wisconsin, dove ci fu il noto episodio dei poliziotti che hanno sparato le spalle a un cittadino afroamericano. Parla di caos, minaccia l'uso della forza per mettere fine ai disordini. E peraltro a Portland a essere ucciso è stato un manifestante pro-Trump. Durissimo il rivale democratico. Il presidente è un leader debole che ha fomentato odio e violenza in molte città, ha detto Biden. Buonasera, quindi come avete visto nell'agenda della politica ci sono ancora la scuola, il referendum, le elezioni che vengono citate oppure no ma sono lì sullo sfondo tra tre settimane. Eppure il fatto principale a nostro avviso è un altro, la divulgazione da parte dell'Istat e degli altri istituti statistici europei dei dati sul secondo trimestre. E quello che si pensava si è avverato. Dati pesanti che fanno capire come si sia creata una situazione da dopoguerra. Un trimestre così nero non si vedeva dal dopoguerra. A causa della pandemia il pillo italiano nel secondo trimestre è crollato di 12,8 punti percentuale rispetto al primo trimestre, 0,4% in meno della previsione già nera dello scorso luglio dell'Istituto di Statistica. Sono ora due i trimestri consecutivi di decrescita, con il primo che aveva fatto segnare un meno 5,3% rispetto al precedente. Ma non è solo un caso italiano, nel resto d'Europa il calo è analogo, se non peggiore. Nella zona euro il pillo è calato del 12,1%, meno 9,7% per la Germania, meno 13,8% per la Francia e poi ancora scendere, meno 18,5% per la Spagna, fino al Tonfo, fuori Europa, del Regno Unito, con meno 20,4%. Ma nel dato di per sé scoraggiante si potrebbe nascondere in realtà una notizia positiva. Il meno 12,8% è il dato riferito all'economia nel periodo in cui il lockdown aveva fermato le attività produttive e bloccato la mobilità. Come per dire, da quel dato adesso possiamo solo salire. Il paese nel frattempo è ripartito e i prossimi numeri dovrebbero certificarsi. Ci crede Roberto Gualtieri, che afferma I dati sulle entrate tributarie si aggiungono ad altre evidenze che ci consentono di auspicare un forte rimbalzo del PIL nel terzo trimestre e aggiunge I consumi interni delle famiglie italiane nei mesi di luglio-agosto si sono riavvicinati ai livelli pre-crisi. A spaventare però sono proprio le previsioni dei consumi che a livello nazionale potrebbero calare del 10,9% nel 2020, secondo Confcommercio. In altre parole, una perdita di 116 miliardi, quasi 1.900 euro a persona. Per rilanciare i consumi, poi, sarà necessario affrontare l'altra grande crisi scaturita dalla pandemia, quella del lavoro. Banca d'Italia e lo stesso governo stimano un calo degli occupati nel 2020 di circa un milione di unità rispetto all'anno precedente. Tutto ciò nonostante la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti. Certo, in arrivo ci sono le sovvenzioni e i prestiti dall'Europa per il piano rilancio. L'Italia è riuscita a strappare più di 81,4 miliardi di euro di sussidi e 127,4 miliardi di prestiti, per una cifra totale che si attesta intorno ai 209 miliardi. Soldi sufficienti a risanare le perdite accumulate in mesi di lockdown, incrociando le dita che il virus non scateni la sua furia nuovamente anche quest'autunno. Ecco, la questione è proprio questa. Stanno per arrivare, stanno per essere destinati definitivamente a fronte di progetti i soldi del Next Generation EU, che è poi quello che abbiamo chiamato fino ad oggi Recovery Fund, cioè i aiuti a fondo perduto e i prestiti agevolati da parte dell'Europa. Eppure nella politica si parla di scuola, referendum, elezioni regionali. Non sarebbe il caso che Governo, Parlamento, forze dell'opposizione, anche oltre che quelle della maggioranza, cominciassero davvero una discussione forte, come dire, all'aperto, non nel chiuso magari di incontri riservati su cosa bisogna fare con tutti quei soldi che non ci vengono in una buona parte donati, ma ci vengono prestati e quindi impegnano il nostro futuro per davvero cominciare a discutere di come deve essere il futuro nel Paese. Sembra spesso che si attendano quei soldi come si attendono da parte di una compagnia di assicurazioni dopo un incidente, per rimettere la macchina come era prima. Ma non è questo il caso. Non è, per dirla in altri termini, come quei decreti mille proroghe in cui si mettono tutti gli interessi particolari e la somma è quello che si può spendere a livello nazionale. Qui bisogna rifare il Paese e cambiarlo. E come lo si cambia? Non può essere, come dire, una scelta a somma zero, ciascuno ci mette quelle che sono le sue proposte. Eppure al chiuso negli uffici questo si tende a fare e sarebbe una tragedia per tutti noi. Si parla di scuola in questi giorni e non è casuale perché il Governo ha fissato quella data del 14 settembre. È stato un impegno forte ma rischioso. Se le cose andranno bene si riverbereranno anche sulle elezioni regionali che sono subito dopo. È ovvio cosa succederebbe al contrario. Ma questa sera è sera di decisioni tra Governo e Regioni. Trasporti e mascherine sono i temi centrali nella corsa contro il tempo verso la riapertura delle scuole fissata nella maggior parte delle regioni al 14 settembre. Il primo, quello della mobilità dei 10 milioni tra studenti, insegnanti, personale e scolastico è stato oggetto di un duplice incontro. Il primo tra le regioni che hanno letto e discusso il protocollo proposto dal Ministero delle Infrastrutture che di fatto porta la capienza consentita ai mezzi di trasporto all'80%. Soluzione accettata dai governatori che però hanno mosso due appunti su cui si discute adesso nella conferenza Stato-Regioni. Il primo riguarda l'estensione dell'aumento dei passeggeri non solo su autobus e metropolitane ma anche sui treni locali e regionali, misura inizialmente non prevista dal MIT. La seconda richiesta riguarda i fondi per le soluzioni alternative per quel 20% che resta fuori anche con l'aumento della capienza. Le regioni propongono di aumentare il parco dei mezzi e il personale delle aziende di trasporto locali in sostanza più cose ma per farlo servono i soldi. Secondo le prime stime almeno 250 milioni di euro ma è una cifra assolutamente provvisoria e l'accordo non sembra lontano. C'è poi il tema mascherine. Se andranno tenute anche se si sta in aula seduti e distanziati di un metro durante le lezioni fermo restando che i dispositivi di protezione individuale saranno obbligatori negli spazi comuni all'ingresso e all'uscita insomma ogni volta che non sarà possibile tenersi a distanza di almeno un metro. Di questo ha discusso in una lunga riunione il Comitato Tecnico Scientifico. cercando di arrivare a un protocollo che tenga unite le diverse istanze tra chi ritiene impossibile farle indossare per ora ragazzi e chi invece pensa siano indispensabili per evitare nuovi focolai di Covid-19. La scuola si prepara quindi e già da domani molti istituti cominceranno i corsi di recupero ma oltre a Puglia, Calabria, Friuli e Sardegna che avevano da tempo dichiarato di voler ripartire con qualche giorno di ritardo qualche minuto fa la Bruzza ha annunciato che le scuole ricominceranno il 24 settembre una decisione che potrebbe essere condivisa anche dalla Campania. Ecco ci manca solo che adesso le regioni prendano andare in ordine sparso sulla data di inizio delle scuole. Si dovrebbe andare comunque a una sovrapposizione, a una unificazione e quello che spera anche la Ministra Azzolina che rischia di passare per il parafulmine di una situazione che non fosse quella sperata. Proprio lei infatti oggi scrive al popolo della scuola, chiamiamolo così. Il piano della ripartenza per la scuola c'è, preparato già giugno, noi non ci siamo mai fermati. Giù le mani dalla scuola il senso delle parole che il Ministro Azzolina mette nero su bianco in una lettera inviata a docenti e personale in vista della riapertura degli istituti. Se le regole si sono evolute è perché il quadro della pandemia non è statico, non è una fotografia, aggiunge il Ministro rispondendo indirettamente alle critiche piovute per le molte troppe informazioni, a volte contraddittorie, circolate. Quindi aggiunge, al mutare delle condizioni la politica deve prendere nuove decisioni. Nessuno in Europa si è impegnato così tanto nei mesi estivi per preparare la scuola a questa nuova stagione. Basta poi con le insinuazioni come quella sull'ipotetica fuga degli insegnanti dalle classi. I professori ci credono, il corpo dei docenti è sano. Anche i corsi di recupero partiranno, dice riferendosi alle lezioni previste già da domani con i percorsi di recupero degli apprendimenti. Così come sul Reale viene bollata la caree sui nuovi banchi. Di fronte all'assedio che stringe via le trastevere con le opposizioni sul piede di guerra e Salvini che minaccia una mozione di sfiducia, ma anche i dubbi degli alleati PD, consapevoli che sulla riapertura dell'anno scolastico il governo si gioca molto, la Zulina chiede uno scatto di orgoglio direttamente al mondo della scuola. Lavoriamo tutti insieme l'appello, il Paese ce ne sarà riconoscente, abbiamo una responsabilità storica grande, sarà un anno duro, ma anche l'inizio di un percorso diverso. Avremo le risorse dall'Europa, dice riferendosi ai fondi del Recovery Fund, con cui costruire la scuola di domani, a partire dagli insegnamenti di questi mesi. Abbiamo le idee e il coraggio per realizzarle. La scuola e la sua ministra, prima ancora di aprire, sono già sotto esame. È un esame che ha, come si sa, un'incognita, come tutte le cose di cui abbiamo parlato. Come andrà la pandemia? I dati di oggi ci fanno capire che si è in una fase che ancora una volta riporta la marea dei contagi ad abbassarsi, ma con alcune incognite. I nuovi casi scendono per il terzo giorno consecutivo. Torniamo sotto i mille, come lunedì scorso. È giusto ricordare che i dati risentono della domenica, che si porta dietro il minor numero dei tamponi processati, 53.518 contro gli 81.700 del giorno prima. Il rapporto è di un positivo ogni 53,7, 1,86%. Le impennate dei contagi a cui assistiamo durante la settimana sono dovute al maggior impegno nella ricerca dei positivi da mettere in isolamento, complici rientri dai luoghi di villeggiatura e dei comportamenti meno attenti che in passato. Uno sguardo generale ci dice che oggi ci sono stati 37 ricoverati e 8 terapie intensive più di ieri, 6 decessi, 2 di meno. Se la riapertura delle scuole porterà con sé un aumento fisiologico dei casi, come sostiene il Comitato Scientifico, l'Italia continua a rimanere tra i paesi più virtuosi in Europa, con numeri ben lontani da Spagna e Francia e anche dalla Germania, se guardiamo le medie settimanali. Basta voltarsi indietro per capire che la situazione è sotto controllo. I contagi di oggi sono in linea con quelli del 10 marzo, vigilia del lockdown, ma i tamponi erano allora poco più di 12.000, i ricoveri superavano le 700 unità e le terapie intensive erano quasi piene. La Lombardia era la regione più colpita, mentre oggi è addirittura la terza, con 135 contagi, dietro la Campania 184 e il Lazio 148. Le spigolature, che poi tanto spigolature non sono, ci dicono che il clima vacanziero, l'atteggiamento negazionista, l'eccessiva semplificazione e i comportamenti meno virtuosi, sono all'origine del forte aumento dei casi nel Lazio e soprattutto in Sardegna. Nell'isola, oggi 79 contagi e ben 28 ricoverati, si paga l'importazione del virus, sotto accusa la Movida e un certo tipo di turismo. In tutto il mese di luglio i contagi erano stati 38, ad agosto 783, oltre 20 volte di più, con al centro le discoteche, i locali, i luoghi VIP. Il governatore Solinas vuole chiedere i danni per la campagna mediatica, con la Sardegna al centro dopo il boom dei contagi a ferragosto. Viene da chiedersi chi ha riaperto le discoteche e i locali. Il DPCM del governo, 7 agosto, ne aveva ribadito la sospensione. E come si diceva, i partiti guardano a questa situazione e la guardano pensando anche ai utili o ai rischi di una campagna elettorale che è in pieno svolgimento. Si sa tutto di cosa potrebbe succedere, di quali sono i candidati nelle varie regioni. La partita è ancora tutta da giocare per quanto riguarda le scelte di schieramento, per quanto riguarda il referendum. Sapete che riguarda quella legge costituzionale che è stata approvata sul taglio dei parlamentari. Alla fine il PD deciderà la sua linea ufficiale sul referendum per il taglio dei parlamentari, ma sarà davvero alla fine, nella direzione convocata il 7 settembre, solo due settimane prima dell'Election Day. E non sarà libertà di coscienza né il no chiesto a gran voce da un fronte interno crescente al partito. Nomi autorevoli come Zanda, Orfini, Cuperlo, cui si è aggiunto il peso di Romano Prodi e quello di un altro padre nobile solitamente considerato molto vicino al Quirinale come Pierluigi Castagnetti sono emersi in dissenso negli ultimi giorni. Neppure l'argomento del mancato rispetto dell'accordo con l'approvazione di una legge elettorale nuova contestualmente alla riduzione dei parlamentari ha convinto Zingaretti a spezzare l'atto fondativo del governo giallorosso. Neppure i mille appelli del segretario e i vertici del movimento e allo stesso conte caduti nel vuoto, a parte una tardiva apertura oggi di Di Maio, sembrano poter provocare cambi di linea. In direzione spiegheremo che i correttivi invece il PD li ha ottenuti, spiega Stefano Ceccanti, deputato PD incaricato del dossier ed elenca. Il testo base della legge elettorale potrebbe essere incardinato. Al Senato dovrebbe arrivare in aula la prossima settimana il voto ai diciottenni che avvicina i risultati delle due camere e soprattutto è ormai quasi fatta la riforma costituzionale Fornaro che amplia le circoscrizioni aumentando la rappresentanza. Con questo argomento la maggioranza PD, comprensiva in questo caso di nomi altrettanto forti, Franceschini, Enrico Letta, Stefano Bonaccini, per dire, isolerà i critici in direzione e si connetterà al vecchio fronte del no di epoca renziana, diventato sì, con Bersani in prima linea e Leo spaccata. Escamotage in un quadro politico comunque complicato e spesso capovolto. Il combinato disposto di una vittoria della destra in Puglia e di un no al referendum che arrivi al 40% potrebbe essere destabilizzante per il governo nella lettura che circola nella maggioranza. Il timore che Salvini, dicono nel PD, possa cavalcare un risultato di questo tipo. Anche a destra si pesa l'impegno referendario, si calcolano convenienze. Troppo rischioso per le forze più tipicamente antisistema, come la Lega o Fratelli d'Italia, cambiare cavallo. La Lega sembra impegnarsi poco e lasciare spazio anche alle voci in dissenso. Borghi, per esempio, è oggi un po' più criptico Giorgetti, contrario ad accompagnare il sì con una legge elettorale proporzionale. Quanto a Forza Italia, anche Berlusconi ha criticato il sì senza dire esplicitamente no, almeno per ora. Interpretare il no al taglio come ostile al governo Conte potrebbe essere una tentazione, ma anche un rischio. Neppure un anno fa, l'8 ottobre, la riduzione dei parlamentari passò a Montecitorio con 553 voti. Su tutto, anche l'incognita della partecipazione al voto. L'argomento non scalda. Ma l'argomento non scalda, pur se avvenendo il referendum nello stesso giorno delle elezioni regionali ci sarà un effetto di trascinamento. E d'altronde questo soprattutto interessa ai partiti pesare il loro stato di salute e vedere il passaggio del 20 e del 21 settembre, soprattutto le regionali, come un altro tipo di referendum, quello sull'attuale assetto della maggioranza e del governo del Paese. Insomma, un voto pro o contro il governo. Per questo è interessante compulsare i sondaggi e dopo un mese esatto torniamo ai nostri sondaggi del lunedì con un'avvertenza. In realtà tra pochi giorni scatta ancora il divieto di sondaggi che appunto decadono da 15 giorni prima delle elezioni. Quindi questo è il primo, dopo l'agosto, ma anche il penultimo sondaggio. L'ultimo lo trasmetteremo nell'ultimo giorno possibile, venerdì sera. Ma insomma, com'è andata un mese dopo? Come vedrete, gli spostamenti sono di poco conto, verrebbe da dire. La Lega perde lo 0,2% al 26,3%, il Partito Democratico guadagna lo 0,4% al 20% tondo, perde lo 0,6%, il Movimento 5 Stelle al 15,8% e ha, dietro le spalle, ha un punto e 4 Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni 14,4% più 0,2%, Forza Italia riguadagna il 6,3%, cioè più 0,3% rispetto alla stima, come vedete l'ultima che era del 3 di agosto. Se facciamo la somma, come vedete, 27 più 26,3% si va al 47% le tre forze del centro-destra. Ma andiamo avanti dall'altra parte, perché sinistra italiana è al 3,7% più 0,1% e nel derby Renzi-Calenda, come stiamo per vedere, questa volta la situazione è di perfetta parità. Azione 3,2 meno 0,1%, Italia Viva 3,2 più 0,1%, i Verdi 2% più 0,1% più Europa 2% più 0,2%. Cambiamo di Toti, che a rigore andrebbe con quel 47% che abbiamo visto prima, 1,1% meno 0,1%. Altra liste, le varie 2%. Questo per quanto riguarda gli orientamenti di voto, secondo il sondaggio di SVG. Andiamo a vedere adesso cosa succede a livello internazionale. Innanzitutto parlando degli Stati Uniti, dove ancora violenze in una città importante hanno portato a ulteriori polemiche politiche. Donald Trump è tornato a twittare un suo vecchio slogan, Law and Order, legge e ordine. È ciò che vorrebbe riportare nelle città dove sono nuovamente esplose le violenze tra manifestanti. L'ultima, Portland, dove un militante di estrema destra e sostenitore del Presidente è stato ucciso con un colpo di pistola. Ma Trump non si limita ad evocare Law and Order, come fa del resto ormai da mesi su Twitter. Ha minacciato il sindaco di Portland di mandare alla Guardia Nazionale la città è un caos o fate pulizia o la farò io. Ha scritto, rivolto a Ted Wheeler, definendolo uno zimbello di sindaco come tutti gli amministratori democratici ha perso il controllo delle città. Il sindaco della città dell'Oregon, sede dell'ultimo atto di violenza, non è rimasto in silenzio. È stato lei Presidente a creare odio e divisioni. È stata la sua replica. Ma Trump non si ferma dopo aver visitato i luoghi colpiti dall'uragano nel sud del paese e si prepara ad andare a Kenosha, Wisconsin, dove Jacob Black è stato ferito da un poliziotto che gli ha sparato alla schiena. Inoltre è da quando sono scoppiati i disordini per l'uccisione di George Floyd che Trump minaccia l'invio della Guardia Nazionale e dell'esercito nelle città dove le manifestazioni sono degenerate in scontri con le forze dell'ordine e saccheggi. Minacce rivolte però sempre a sindaci del Partito Democratico. A pochi mesi dal voto per Trump anche le rivolte di piazza diventano materia di campagna elettorale. Non a caso ha attaccato non solo il sindaco di Portland ma anche il suo diretto rivale Biden. La violenza degli anarchici e degli agitatori ha detto a costretto ad uscire dal semi-interrato persino il sonno lento Joe. Biden dal canto suo accusa il Presidente di essere un leader debole e di fomentare la violenza invitando i suoi sostenitori ad agire come milizie armate. Parole che sta ribadendo nell'inizio a sorpresa del suo tour elettorale a Pittsburgh, Pennsylvania dove il candidato democratico si trova da oggi. È uno stato chiave per la vittoria del 3 novembre. Quattro anni fa Trump vinse di pochissimo su Hillary Clinton. Oggi i sondaggi danno Biden in vantaggio ma lo stacco sull'attuale inquilino della Casa Bianca si sta assottigliando. Permetteteci di dire un'altra cosa in tema di politica internazionale. Nei giorni scorsi, soprattutto ieri, c'è stata un'incredibile serie di polemiche da social nei confronti del Ministro degli Esteri per delle innocue fotografie scattate al mare. In un paese normale quelle polemiche non ci sarebbero e magari ci sarebbe un altro tipo di discussione, quella che riguarda il nostro atteggiamento nei confronti della Turchia. Il paese dove tre giorni fa è morta dopo un lungo, inutile, ai fini dell'avere giustizia, sciopero della fame, Ebru Timtik, l'avvocatessa che era in prima fila nella lotta per i diritti civili e che era stata messa in carcere dopo un'accusa che purtroppo oggi non possiamo più definire farsesca visto la tragedia che si è verificata. Al momento in cui è venuta a mancare pesava, la vedete quando era in salute prima dell'arresto e dello sciopero, pesava 30 chili. È stata lasciata morire da un regime, quello turco, che ogni giorno si allontana, anche per effetto di tutto questo, da quella che dovrebbe essere la civile convivenza europea. È un alleato della Nato, è un interlocutore dell'Unione Europea, la Turchia. Ma vorremmo sapere fino a quando tollereremo stando zitti e magari parlando dei giochi d'acqua del ministro degli esteri. Andiamo all'ultima notizia che vi do in breve. È importante, ma non ci sono foto di rito o immagini che contano, perché per le telecomunicazioni è arrivata la giornata della scelta sulla rete unica nazionale. Infatti c'è stata la firma da parte di Cassa Depositi e Prestiti, da una parte e Team dell'altra, dell'accordo che dà il via di fatto alla creazione di FiberCorp, che è appunto il veicolo per la creazione della rete unica nazionale. Team deterrà il 58% della società e FastWeb il 4,5%. E poi ci sono, come si sa, gli americani del fondo KKR. La società si occuperà appunto della creazione della rete unica nazionale che nascerà non oltre il primo trimestre dell'anno prossimo. Il primo oggetto prevede che la società della rete unica sia controllata congiuntamente da parte di Cassa Depositi e Prestiti, quindi per conto del pubblico verrebbe da dire, e da Team con un sistema di governance societaria del tutto nuovo, oltre che dal regime regolatorio che ovviamente spetta alle autorità di garanzia e di regolazione del mercato. Vedremo perché se ne parlerà tanto. Cambia, per effetto di questa intesa, il sistema delle comunicazioni. Dopo di noi in onda David Parenzo e Luca Telese hanno Antonio Padellaro, Pietro Senaldi e soprattutto, non me ne vogliono i due colleghi, il professor Crisanti. Ci fermiamo. Infine siamo alle notizie di Borsa. Come stiamo per vedere Milano ha perso l'1,04%. La seduta era iniziata molto bene, ma poi sono arrivati i numeri dei PIL nazionali in tutta Europa. Le cose sono andate diversamente. Lo spread, come state per vedere, è a 146 punti base. In questo momento contrastata Wall Street, Dow Jones meno 0,79, Nasdaq più 0,93. È tutto in onda. Ci vediamo domani sera. Buonasera.